In importante gemellaggio nei giorni scorsi in Sicilia per l'Associazione Nazionale Carabinieri di Cerignola in provincia di Foggia. Una delegazione guidata dal presidente Marcello Fortalezza è stata ospite della cittadina di Carabina di Catania per festeggiare il 25 aprile. Nel corso della visita sono stati ricevuti dal primo cittadino siciliano. Nel corso di una cerimonia in comune è stato effettuato il gemellaggio con la locale sede di Carabinieri e con l'US Air Force e le forze speciali americane. I colleghi siciliani ricambieranno nei prossimi mesi la visita nella cittadina Ovaldina. Nino Siena, Speciale News.